L'osteoporosi è una malattia difficile da riconoscere, il più delle volte non dà nessun segnale premonitore e in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone, di cui 4 sono donne. Un momento critico per le donne arriva con la menopausa. All'età di 50 anni una donna su due rischia più facilmente fratture, un rischio che è superiore a quello di tumore mammario, ovarico e uterino combinati insieme. Si manifesta nella maggior parte dei casi improvvisamente con una delle tipiche fratture da fragilità ossea, come al polso, vertebre o femore, a seguito di traumi anche molto lievi e banali. Per evitare brutte sorprese ad una certa età, bisogna valutare la propensione individuale all'osteoporosi, analizzando i propri fattori di rischio. Una persona con osteoporosi, in particolare se ha già avuto fratture, deve assolutamente seguire una terapia farmacologica. Un'alimentazione ricca di calcio, attività fisica con un supplemento di calcio e vitamina D sono la base della terapia a cui spesso si aggiunge anche un farmaco capace di riportare il metabolismo osseo verso l'equilibrio tra rissorbimento e formazione. Ma quel che è ancora più importante per il successo della terapia è seguirla nel tempo. L'osteoporosi è una malattia che dal punto di vista sintomatologico è silente, tende ad essere silente. Quindi è importante nel rapporto medico-paziente sottolineare con estrema chiarezza l'importanza di continuare il trattamento e se vi sono problemi col trattamento bisogna rivolgersi al medico.